Allora, Laura Candela, top di classe, bomber di QBase, in tutta la sua bellezza, Laura Candela, bomber di QBase, poi abbiamo Tutta la classe dei fenomeni di QBase, è già un po' l'americano, per chi avesse dubbio noi abbiamo anche l'americano Ladies and gentlemen, in tutta la sua bellezza, qui abbiamo la nostra sinistra, Ambroselli, niente poco di meno Ambroselli, oggi fai lezione di QBase Pro, argomento di cui si tratterà? Reverberi, usi pure la nuova channelist, come dicevo? Vocal chain, esatto Vabbè, quello è molto interessante, poi un estratto lo alleghiamo a questo breve video Va bene? Oh, a breve il corso di QBase, breve estratto il corso di QBase con Pierangelo Ambroselli, va bene? Me ne raccomando, partecipate tutti Bene Allora, qui che c'è? C'è il maschio, è l'unico possibile, intramontabile Numero uno Allora, la nostra sinistra, adesso andiamo a incognare un personaggio bello dello studio Lui è il personaggio Ladies and gentlemen Con l'Antes, niente più bene con l'Antes Ciao a tutti A riusci a tutti, grazie Arrivederci